Ciao, ragazzi, Ferragni è season 2. Dove andate, Monelli? Let's go! Propositi per questa nuova stagione? Mergermi in esperienze completamente diverse da quella che è stata la mia storia. Quest'ultimo anno, più di tutti, ci ha messo alla prova. Non tiriamo neanche fuori questo argomento. E allora non parliamo di un cazzo, che cazzo siamo qua a fare? Ho dovuto affrontare l'ipotesi di morire. Sei tu che devi essere forte. Non devi piangere. Hai un po' perso la bussola. Ho un po' perso la bussola. L'ho rotto? Non ci credo, ragazzi. Sarà una stagione bellissima. Sì! Sulle mani! Papà! Una stagione piccante. Ma non sei mia moglie? C'è tutta un'area di novità qui. Stai facendo incazzare. Non siamo in crisi, io e te non siamo mai stati più uniti di così. Per Ferragni! Sì! 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 Sì!